Siamo tornati anche questa settimana No, è l'aria no, non c'è Sono da solo Mi sento solo Uff, aiutare anche io E dov'erle? Bella a tutti ragazzi e benvenuti su Mavicciane Siamo i vostri Mino e Mina E rischiamo sui giochi Del... Del... Il tiro Quattro E andiamo a block party Ragazzi e riparte la canzone No, no Questo video verrà senza Mino No, no, no Perché sei entrato su... Anzi, hai fatto bene Oh, c'è Superman Ci va a caricare il mondo Oh, però ma... Cioè, se mi levi il volume Io come cavolo faccio a parlare? Basta però queste cose Ho capito che c'è il computer te Ma non lo può fare E che cavolo Comunque ragazzi Mentre l'aria arriva Io vi voglio ringraziare tantissimo Perché in questi... Oh, ragazzi Miele che musata hai preso Ho mai visto che laggare Bada bam Comunque ragazzi Voglio ringraziare tantissimo Perché in questa Tipo settimana Da 90 No, ragazzi Cioè, no Voi scusate me Perché se guardate il video Cioè, boh, vabbè Dicevo E vi ringraziamo tantissimo di nuovo Per la terza volta In tre minuti Perché in una settimana Siamo cresciuti da 90 iscritti A 123 iscritti E solo oggi Siamo aumentati di 8 Ora Io odio lo spam Però Ho dovuto mandare Alcuni messaggi Perché purtroppo Ho fatto una cosa Ho detto Andiamo a cercarci Su YouTube Questo video era Un pochino più lungo Per queste cose Ma lo volevo dire Perché volevo Chiarirmi con voi Io, tanto io Sono andato a cercare Su YouTube Tipo Treasure Island Quella che si fanno I Minecraft Ita Cercando questa qua C'è venuto fuori Alcuni italiani Che la fanno E solo che No, non Non che travertano noi Cioè diciamo che YouTube fa risaltare Così Risaltare si dice Intanto Ilaria Non la becca una Risaltare I YouTuber Quelli con più iscritti No? Però il bello Che ho messo Minecraft Ita Cioè E quello che mi viene fuori È uno spagnolo E un inglese dopo Cioè E noi no Cioè Scusa Ma YouTube Ma se io metto Ita E nei tag Nel mio video C'è scritto Ita E italiano E Italy Anche la nazione Cioè Come Perché Non appaiono i video Quindi Perché sei te Purtroppo Con questi problemi di YouTube È quasi impossibile Non fare spam Nel senso Ora Io odio tantissimo La iscritto ricambi Che alcuni mettono Quindi ragazzi Per favore Non mettetele Nel nostro video Se Ah no No Però Possiamo trovare Un altro metodo Nel senso che Voi Potete commentare il video E dire Se vi piace o no Sinceramente E quindi potete dire Mi piace Sempre mettete il piccolo Tanto ragazzi Noi non abbiamo account Con la monetizzazione Quindi Noi non guadagniamo Cioè Fateci sapere se vi piacciamo Per il momento Però Cioè Non potete dire Iscritto ricambi Cioè Ragazzi Io mi iscrivo A un altro canale Se mi piace Se voi tipo Commentate il nostro video Bello Anche io sono youtuber Che sta Che vuole crescere Perché Ci sentiamo Mi sento Bravo In quello che faccio E quindi voglio Risalire Noi passiamo Dal vostro canale E vediamo Se siete bravi Ci iscriviamo Però non La cosa Io vi sono iscritto Devi ricambiare Per forza Quindi Per favore Questa cosa qua Noi Siamo contro Questa cosa E Cerchiamo tutti Di non farla Veniamoci tutti incontro Altra musata di Laria E ora Giochiamo Ma io sono già Qua davanti Anch'io Tra l'ora le faccio Un giro Quale sei Destra o sinistra Destra Numero 20 Numero 20 E' il terzo Via ragazzi Via Sì Quanto ci devo aspettare 58 secondi Ora Ci ho avuto 200 Ora Guarda un po' Guarda Con un semplice Scorco delle dita Questi 50 secondi Sto tornando in 3 3 2 1 Via Va ragazzi Siamo partiti Siamo partiti Sì però vai Cavolo via Va Va Il blallo C'è il blallo C'è il blallo Vieni Che morti Ragazzi però Chi muore Il primo turno Ragazzi Quale rosa è Io provo uno Ragazzi Per me è questo qua Io lo metto sopra Qui lo sapevo Lo sapevo Questo Grigio No è bianco Ma lo guarda No l'avevo preso Ti ha detto grigio Era bianco Ma non ero bianco Sono morta Ha 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 Colpa tua Ragazzi Uffa C'è la gente che fa parkour Perché non faccio di testa mia Eh Ti la domando Spero che tu muoia giù Venga a buttare Ma la gufata Come cavolo Dai Ma davvero Va bene Ci vediamo tra poco In un altro Un altro lobby 3 2 1 Ciao Muori Nananananana 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 Andiamo a dare noi a qualcuno ragazzi Vediamo un po' Chi seguiamo? Questi Nananananana 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 Oh 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 inizia Via ora sei Non è vero Ma si è per giallo all'inizio Boom Stim Boom Pah Nananananana 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 Oh dio cos'è questo? Purple 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 trovato Nananananana Nanana Ah ah Scemo Nananananana Sei fattivo Dai no C'è È scivolato da lì Eh E questo? Sì Credo Sì Nananananana Ah ah Scemo anche lui Nananananana Che cazzo? Grim Questo non è Questo? Oddio Lo sapevo Lo sapevo Voglio anche la skin Col pinguino No Nananananana Oh oh Sei arancione Oh tizzi Mi sembra su davanti Mamma mia Mamma mia Ragazzi ci siamo sempre in 14 Non finisce più Oggi non finisce più Cos'è? Magenta Io mi sa che questo lo sbagli Ah ah No ma ce ne va a cazzo Guarda dove è Lo sapevo Ah Ho capito Ho capito ragazzi No ho capito tutto Ho capito tutto Ho capito tutto Ero sul pink Ci sono alcuni colori Che tipo Prima Il magenta È uscito con il Purple Si No sono morto Era troppo lontano Comunque il magenta Ragazzi prima è uscito Col purple Quindi vuol dire che Alcune volte dice Il colore Tipo in generale Altre volte dice Una specie Di colore Perché Una specie di colore Tipo una specie di quel colore Scusami No? Non è così? Oh prima è uscito il purple E tutto il viola È rimasto Poi il magenta La parte del viola Più scuro È andata via Perché il magenta È più chiaro Ha fatto così Prima Comunque ragazzi Sono rimasti in tre E noi ci vediamo Tra poco In un'altra lobby Ciao Che è che vuole Che Mino esca Dal video Met Hashtag Minosmer Ragazzi se arriviamo A 30 Hashtag Minosmetti Io la prossima volta Non farò La canzoncina Vediamo un po' Vediamo 30 sono troppi Bastano 10 Comunque ragazzi Come ogni volta Ila esce prima Dal gioco Uno Via Perché Ilaria Non sa giocare E Ilaria Eccolo Ma come sono Una via Sapevo Vedi Rimasto lì Me lo immagino Perché è uscito due volte Scusate Rido per L'idiotico Green Ce l'ho accanto Vedi guarda Guarda Sono diversi Green Sono diversi E' diverso E' no eh E' no eh Guarda E' no eh E' no eh E' no eh Purple Tipo purple Qual'è questo Qui chiaro O quello E' quello qui Lo vedi tutte e due Però No ma quella è l'ombra No Sì Guarda Questo cos'è Quello chiaro Io sto sul chiaro Guarda che va via quell'altro Non va via quell'altro E' l'ombra E' l'ombra Però vabbè E' la perché prima Ma perché prima era rosa E magenta Questo cos'è Blu Oddio Vado Mi sono salvata alla fine Però la gente Ragazzi sta migliorando Perché No muori più nessuno L'ho detto Dov'è Ti l'hai detto Ciao ragazzi Vedi Lo fanno apposta E' una congiura Ora ragazzi Qui è questo Comunque No Non si è andato più avanti Sì Ragazzi La concentrazione La concentrazione Ecco tipo Questo non è magenta Sapevo Era rosa Quello che Non è rosa Non è rosa Non è rosa Non è rosa La legge La legge Non sbaglia mai My galag Sette ragazzi Siamo sempre in gioco Non mi battono Ragazzi Non mi battono Magenta No Ah si magenta Quello giusto Scusa È tagliato Light green Come sempre sette Ma non muore nessuno Giallo Corri Corri Ciano No Via Oh signore Non muore nessuno Ragazzi Oh 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 Questa era facile Sinceramente Difficile Difficile Ragazzi Light blue Ma guarda Ragazzi Niente Via È lunga 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 Merda 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 Te la sei guffata Da solo Merda L'avevo detto Che era Perché esplode Le cose Due Sono rimaste Due Va bene ragazzi Andiamo a fare L'ultima Ci vediamo Tra poco Se non mi porti al mare Non mi posso abbrunire A me non piace il mare Quindi non ci vado Vi prego Scrivete Asta Mino Basta Ragazzi La gente È diventata Più forte A questo Gio Mi devo allenare Di più Comunque No Sempre 62 punti Orange C'è gente Che muore Ciao Ciao Perché L'ho fatto in piscina No L'idioti Perché erano L'impiedi Lì davanti Trovato Come Ma in 80 Sono cascati Ma davvero Ma si vedeva Questo Mamma mia ragazzi Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ciao mamma La M Aspetta Mamma mia Come l'ho visto Come l'ho visto Di sotto Come l'ho visto Di sotto Eccolo Preso Però sono diversi Ragazzi Non è la luce Sono diversi Sono diversi Sono diversi Ma lo fanno apposta Togliti Ci voglio stare io Vì a 80 Allora C'ho tutti io Ragazzi Guarda lì C'ho tutti lì Ma veramente era mio Lime Uvo non ci sono Trovata Ciao Ila Ma se mi lagga Guarda 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 Che non va Allora La prossima volta Registri te Ciao Ragazzi 5 5 Andiamo Andiamo in poll Andiamo in poll Non ti vedo Porcaccia la miseria E beh Quella era facile Era su tutti i nostri Cos'è? Gray Corri Corri Non è No C'ero No C'ero C'è i morti Porcaccia la miseria C'ero 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 Comunque ragazzi Anche questo video È arrivato alla fine Ci vediamo il prossimo giovedì Con il lag di Laira Ci vediamo Bellissimo Il cielo così Ci vediamo Il prossimo giovedì Con un altro video Dei giochi del destino Da Mino e Mino Di Mavic Channel Tutto Un Una buonanotte Glamour Ciao A presto Linea Ma vuoi smettere Allo studio Ciao